Vincenzo Amato, preside della scuola, del liceo Curiel, la succursale. Senta, ci siamo quindi 16 aprite, ci sono state delle migliorie importanti? Sì, delle proprio di sì, erano migliorie attese per quanto riguarda soprattutto la sicurezza e non solo. Quindi adesso dovremmo essere a norma per quanto riguarda la sicurezza in ambienti di lavoro e vigili del fuoco antincendio, ma comunque è sotto gli occhi di tutti che anche dal punto di vista dell'estetica, dell'accoglienza, dell'ambiente di lavoro per i ragazzi è tutto migliorato. I conti soffitti danno anche un ambiente più gradevole, la ritinteggiatura, insomma parti accessorie alla sicurezza che comunque non guastano. Sempre un'eccellenza comunque la scuola, quindi l'istruzione al nord. Leggevo proprio questa mattina che purtroppo al sud sono carenti sulla matematica, ma com'è possibile? Beh, questo me lo deve chiedere a me. Comunque al nord siamo l'eccellenza e il Curio fa parte dell'eccellenza, questo mi permetto di dirlo. Ma il paradosso è che moltissimi insegnanti arrivano proprio dal sud, come mai? Guardi, questo lo dice lei e mi fa piacere, proprio per il fatto che ci sono tanti insegnanti del sud che insegnano ai ragazzi del nord-est e che quindi diventano eccellenza. Anch'io sono quasi africano perché sono di aggrigento, ma questo non vuol dire nulla. L'importante è che ciascuno faccia la sua parte, la faccia bene e se ciascuno fa la sua piccola parte bene, tutta l'Italia può andare meglio.